Ciao a tutti ragazzi, sono Pistone360, oggi siamo in un nuovo video, oggi siamo fuori, se mi vedo, credo di sì, ok così mi vedo, oggi faremo un piccolo video, una specie di vlog, capito? E non mi chiedete perché sono vestito sportivo, non lo so, non mi ha fatto vestire mia madre, ma contento, ciao cane, uè cane, si chiama Lola, allora, vi volevo far vedere le mie piccole cose, Guarda, non tanto piccole, perché sono, oddio, mi fanno schifo i ranni, ma guardate ragazzi, mi può sembrare anche un po' una cazzata, ma veramente, mi fanno schifo, ma guarda, dove sta andando? Ok, allora, forse mi farò il canale sull'Xbox, perché ce l'ho, xbox, e, oddio, non casca la scatola, e xbox, mi sta cascando, allora, forse mi farò il canale sull'Xbox, sempre Pistone360, e, faremo video solo Xbox, se no, beh, allora, a questo punto, se io faccio così, ho due canali, però, se, eh, diciamo, nello stesso modo, è come se ce n'ho, solo uno, uno, in due cose, perché, prima pure le facevole, facevole, mh, i video sull'Xbox, però, non a schermo intero, come vi piace, a voi, ok, come vi piace a voi, e, mh, non, ho visto che, a molti compagni di classe, soprattutto, mh, degli amici miei, mi hanno detto, non fai bene i video, e di questo, mi, mi sono chiarato, un po' con loro, ho detto, tra poco, mi compro tutto l'attrezzo, tanto, il microfono, non ce l'ho, però, credo, che ormai, posso, perché c'ho tanti soldi, e, e, così, è tutto, beh, cosa dirvi, che, veramente non è tutto, vabbè, ci vediamo in un'altra parte, ah, chi non l'ha detto, ho anche la Play 2, che sarebbe quella di mio padre, quando era piccolo, però, mh, ormai mi sono fatto l'Xbox, non credo che mi potrei fare anche la Play, perché, beh, ormai a questa è vecchia, non c'hanno i giochi, ho visto che un amico mio, c'aveva GTA, sulla, sulla Play 2, e, ci sono rimasta bocca aperta, perché, e ho pensato, perché non me l'avevo, non me lo so comprato, e, beh, perché a me, il mio scopo adesso è comprarmi GTA, veramente, ora è passato un po' GTA, perché, mh, ora voglio comprarmi, oddio, qual era, aspettatemi, fammi, fatemi ricordare, ok, veramente sono due giochi, sarebbero Battlefield 4, che è anche un bel gioco, e, ecco, forza Horizon, normale, perché, non ve l'ho, non ve l'ho portato mai, però, mh, ho la demo, quindi vorrei anche, no, perché, ho visto da mio cugino, è una figata pazzesca questo gioco, è di macchine, ci sono le Ferrari, di tutto, e, per questo è tutto, ehm, vi auguro, cioè, scusatemi, ehm, vi auguro delle buone vacanze, a tutti quanti, saluto tutti, forse ci vedremo sull'Xbox One a schermo intero, fra qualche mese, qualche giorno, non lo so, perché, devo, mh, devo informare da mio cugino, che lui già ce l'ha, però, non ti dice niente password, no, quindi, lui ce l'ha, quindi mi faccio aiutare da lui, e, vabbè, per questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video.